Bentornati ragazzi, allora prima che cominci il video volevo solo dirvi che questa non è una vera e propria esplorazione ma è una mostra è una mostra organizzata dai luoghi dell'abbandono, vi lascio qui sotto i loro contatti se volete iscrivervi è una mostra fatta dentro l'ex manicomio di Garanzette, provincia di Rovigo tutto quello che vedrete è originale, nel senso che sì, è una mostra ma tutti gli oggetti, tutte le lettere, tutte le stanze è tutto rimasto come all'epoca, tutti gli oggetti che vedrete tra poco sono originali del manicomio e dei pazienti che lo ospitavano sono però state installate delle vecchie tv che riproducono i filmati originali dei pazienti del manicomio una cosa veramente che mette i brividi, guardate grazie a tutti 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 grazie a tutti